Arley Davidson è uno stile di vita, una passione, una volta che compri un Arley ci va per sempre. È un sogno che è diventato realtà quello di un gruppo di amici che a settembre dello scorso anno hanno fondato il club Way Out, il primo patch club in Abruzzo di Arley Davidson. Sono gli ideali di rispetto, fratellanza e gusto per l'avventura, oltre alla passione per la moto simbolo degli States e della vita on the road raccontata da Jack Kerouac, ad unire i 25 soci, 16 uomini e 9 donne, che fanno parte del club e che si sono ritrovati a Francavilla per una serata conviviale insieme ad altri fratelli arleyisti. I Black Devils Abruzzo, i Vibrata Biker, gli Aternus, i Free Chapter e gli Hog Chapter di Riccione, Perugia, Civitanova, Iesi e Roma. Siamo un ex hogger della famiglia Hog che è in tutto il mondo, io sono stato uno dei fondatori del Pescara Chapter Hog e dopo alcuni anni, quasi dieci anni e più, abbiamo deciso insieme ad altri amici sempre dell'Hog di uscire dalla grande famiglia Hog e di iniziare un altro percorso che fa parte del Patch Club. Sarebbe la patch nostra e questa è una patch identificativa dell'Abruzzo. Questa serata è una serata per... abbiamo invitato tutti i nostri amici per fare una serata tutti insieme, per inaugurare, diciamo, il nostro club. Chiunque ha un arley per noi è un fratello.